Di cosa scrivi? Allora, principalmente parlo d'amore, dell'amore. Come sei messo con le ragazze, quindi? Non mi posso lamentare. Ma loro o te non si possono lamentare? Io. Cosa porti sul palco di X Factor? Un inedito che si chiama Martina. Vai Martina! Martina sei una stronza Perché sono qua sotto Mentre so se c'ho una birra Che ti aspetto già da un'ora Martina sei una stronza